Ragazzi, prima di iniziare con il video, guardate qua, quindi l'ultima delle tre carte che ci sono state inviate da Cardsplug.com Chi manca ragazzi? Indominate un po' chi è il migliore, ragazzi, chi è il migliore? In che versione? Il miglior portiere di casa mia Impressionante ragazzi Guardate che roba Versione leggenda, versione icon, lui 99 Il papà, il supremo, carta versione 99, icon Mettete sotto nei commenti se meritavo 100 oppure va bene 99 Ragazzi, guardate qua quanto è fatta bene la carta, guardate qua, fatta benissimo con l'immagine di papà, tutte le valutazioni da portiere Guardate sul sito di Cardsplug.com Ragazzi, mi raccomando andate a comprarle C'è il link qua sotto nella descrizione, mi raccomando andate a visitare il sito E utilizzate il codice coupon BEMVE, come ve lo lascio scritto qua Per avere il 20% di sconto Sull'acquisto delle vostre carte personalizzate Potete fare come volete voi, delle dimensioni che volete voi Ciao ragazzi, sono BEMVE, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Oggi ragazzi, Fiorentina Juventus è iniziata in questo momento Sono qui in compagnia di mio papà Ciao ragazzi, forza Juve sempre In compagnia di mio fratello, chi dira? Ciao ragazzi Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale perché siamo proprio a 30.000 iscritti Mancano 90 iscritti, mi raccomando, iscrivetevi ed arriviamo a 30.000 iscritti Oggi, iscrivetevi oggi, oggi dai tutti E adesso andiamo dentro con Fiorentina Juve Dai ragazzi, forza Juve Vai, vai, vai Vado a Pantellento Ramsey, mamma mia Mamma mia Mamma mia Bravo Scandaloso Ramsey, sei scandaloso Ma Ramsey, ma sei manso Caspita, mangi, termattino Mamma mia Mamma mia Caffè, latte e bromuro Mamma mia, ma la tartaruga è più veloce di Ramsey, ragazzi Pervenuti, Castrovilli, cross per Castrovilli La palla a sfida, Alexandro Coltacco La mette in calcio d'angolo, buona ripartenza Mamma mia, che pazzi Io spero, Ramsey, io spero di vengano davvero una di quelle cagarelle Ma versione upgrade rispetto a quella che doveva venire lì ad Alexandro Mano Mano, mano, mano E mano, mano, il calcio di rigore è questo Io te l'ho detto prima che oggi se ce l'hanno dato, il calcio di rigore E mi ha detto, io adesso voglio riferirlo Ma mi sembra una mano nettissima di Ramsey Se la toccava la testa Dipende allora Se la toccata di mano qui è riguore Ma è mano, ha toccato la mano No, ma scusami Questa parte qua proprio che è molto vicina alla spalla Mano, mano piena non è E parte sonda del calcio Adesso massa, aspetta Calcio di rigore per la fiorentina, rabbio Un po' di sconnesso sulla giocata con la parte Vlaovic Guarda il rigore Guarda la nostra sinistra Parte Vlaovic col cucchiaio Scelsi in seduto Fiorentina in vantaggio 17 in campionato Salento E che fa Ragazzi La classe di E Mamma mia Mamma mia 29 minuti 29 minuti 20 minuti Imbarazzanti Ed è il po' Sono allibito dallo scandalo che c'è stato per ora in questi 29 minuti E meritatamente Perché meritatamente la Fiorentina va in vantaggio Meritatamente 29 minuti 29 minuti Di scandalo 29 minuti dove noi siamo andati Una volta oltre il nostro centrocampo Di scandalo Ma come cazzo fai ad andare così? Ma come fai ad andare con i braccioli? Ma anche tu benissima ne è Pensa a te E poi anche E poi anche Gran giocatore però Ma cosa stiamo a parlare? Ma ricorda stiamo parlando Ma in 30 minuti non abbiamo costruito un'azione L'unico modo in cui abbiamo provato ad andare avanti è stato con quattro lanci lunghi di quell'altro I lanci lunghi Ma ma fa culo pure lungo Una partita di bala qui Parte su Caceres Corre di bala Vesterno Non sei Non sei Non ci posso credere Ma non ci posso credere quanto sei scarso Non ci posso credere quanto sei scarso Sei un pippone gigantello Sei una merda Sei un pippone gigantesco Sei una merda Sei un pippone gigantesco Gigantesco Sei un pippone gigantesco Un'azione abbiamo creato Al quarantacenquesimo Solo davanti alla porta Sette milioni e mezzo prende questo Quanto sei scarso Sei una merda Non sei stato capace Sei un pippone gigantesco Sei un pippone gigantesco Sei un po' di calma Non sei riuscito a stoparla E solo davanti a partire a scotterla fuori Impressionante 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 quanto fai cagare Record del mondo Scandaloso No, fanculo, prima azione al 45esimo questa e ce la cagliamo pure, ma meritiamo di prendercene altri tre. Le squadre negli spogliatoi con doppio fischio alla fine del primo tempo, 1-0, la volontà tipo non ci dietro, evidentemente perché ne ha di più, in mezzo al campo con i cambi, qui Morata dentro, Vai Morata, 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 e va a fa' Brodo, e va a fa' Brodo, vamos Albaro, Albaro, Morata, vamos, el canterano, el canterano de San Pratano, vamos Sant'Andano. Oh madonna mia, lo fuori gioco, oh madonna mia, forse c'è fuori gioco. GOOOOOO! C'è la scritta che è GONO! GONO! C'è tutto un secondo tempo C'è tutto un secondo tempo dove bisogna GIO-CA-RE GIOCARE GIOCARE Deve avere GONO! Che rimanda per Castrovilli Area di rigore ESCI! 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 MA CHE CAZZO FA? MA CHE CAZZO FA? CESMI! Non posso dirvi niente ragazzi Perchè io l'ho già bestembiato otto anni Ma che cazzo fa? Ma non esce mai! Impressionante! Questo è stato l'esempio ragazzi MAI! TOOOOOO! MISERIA! MA MA FALCUNO CHE SFIGA! MA MA FALCUNO CHE SFIGA! MA MA FALCUNO CHE SFIGA! FIORENTINA! QUI CHE SE LA SPOSTA PER CROSSARE SUR SECONDO PALLO RONALDO! Ma non ci credo! Vabbè ma dai ma non prendo neanche questa palla qua! Vabbè però dai ma di cosa stiamo parlando! Cosa ho sbagliato! ma non ci posso credere devi andare dritto no ma ha paura di prendere la palla ma cos'è non ci posso credere non ci posso credere però ragazzi è ovvio che parezzano vabbè sbagli questo sbagli quello di Ramsey nel primo tempo ci bello che l'hai imbroccato quel tiro alla Morata abbiamo tre occasioni in croce tre e ne riusciamo a mettere una forse è di riuscita ma forse sta ripensando anche lui sei un coglione sei un coglione rimane in possesso fischia massa ottimo un altro per pareggio un punto su sei con la Filtina un punto su sei con il Benevento bravissimo bravissimi e adesso ci sono ancora il Milan l'Inter spettacolo vedete come iniziamo a sentire la canzone dell'Europa League iniziamo a sentire la canzone dell'Europa League perfetto complimenti bravissimi un'altra partita di merda un tempo regalato e via